Lo strappo tra Libere Uguali e il sindaco del PD di Città Sant'Angelo, Gabriele Florindi, arriva a pochi giorni dal voto del 4 marzo nel pieno della campagna elettorale. Il Casus Belli è la Linda, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti nella città del Pescarese. In corso c'è lo stato di agitazione dei lavoratori a causa delle mancate dimissioni dell'amministratore delegato della partecipata comunale. Da qui la rottura in maggioranza con l'annuncio del corso del Consiglio Comunale straordinario richiesto dalle opposizioni della fuoriuscita dalla maggioranza dei tre componenti di Libere Uguali, il vice sindaco Alice Fabiani, l'assessore all'urbanistica Mirko Collevecchio e il consigliere comunale Pierpaolo Di Brigida. La maggioranza per Florindi, almeno numericamente, c'è ancora, ma è chiaro che il dato politico è sotto gli occhi di tutti con un centrosinistra spaccato. In una nota, Libere Uguali sottolinea di essere dalla parte dei lavoratori della Linda precisando come in questi giorni il sindaco abbia avuto la colpa di non schierarsi con le maestranze. Leo voleva un bando per scegliere il nuovo amministratore delegato di Linda, ma Florindi, questa l'accusa, non è stato dello stesso avviso. Dal canto suo il primo cittadino sempre in un comunicato si assume la responsabilità della situazione e dice se dovesse fallire dopo 50 anni l'esperienza del centrosinistra a Città Sant'Angelo La colpa è solo mia, che ho scelto le donne e gli uomini che hanno composto la mia lista e il mio esecutivo. Adesso ci sarà il bilancio da approvare atto dovuto di responsabilità, continua il sindaco. Se avrò ancora una maggioranza lo si vedrà nella seduta consigliare di approvazione di questo strumento cardine e in caso contrario torneremo tutti a casa. Dunque anche in questo caso si agita lo spettro del commissariamento, mentre sempre il sindaco ha convocato una riunione urgente del Partito Democratico. Solo il passare delle ore potrà dire se il muro contro muro attuale è destinato a far cadere l'amministrazione e quindi a far tornare alle urne i cittadini angolani o se invece c'è ancora lo spazio per ricucire la maggioranza magari dopo il voto politico.